Massimo Scalone, allenatore dei giovanissimi 2000 del Castellamonte, quest'anno state facendo un buon campionato, state guidando il vostro campionato con 4 punti di vantaggio sul settimo, state per riprendere, quali sono le vostre aspettative in vista della ripresa? Le nostre aspettative, prima di tutto, è sempre continuare a divertirci, a stare bene insieme a tutti gli altri. E poi portare a termine il nostro campionato, sperando di vincerlo. Tra l'altro mi dicevi che siete partiti male. Sì, siamo partiti male, abbiamo fatto male, però poi dopo ci siamo ripresi, stanno facendo bene e speriamo di continuare così. Qual è il punto di forza di questa squadra? Che cos'è che caratterialmente vi ha permesso poi di riprendervi e di essere adesso al comando del vostro campionato? Il gruppo, i ragazzi sono compatti, sono tutti uniti e poi la società ci sta dando una grande mano e sta funzionando veramente bene tutto. Tra l'altro sei all'interno di un settore giovanile che anche se è in una società non grandissima, ha quasi tutte le categorie, quindi questo vi permette di lavorare al meglio? Sì, speriamo anche nei prossimi anni di continuare, sperando se arrivano ancora tantissimi ragazzi, così meno riusciamo a fare tutte le categorie, sperando che arrivano anche altri giovanissimi, allievi, così portiamo avanti questa società che vuole fare sempre meglio. Ciao!